Ben ritrovati in diretta con la nostra emittente, siamo in compagnia di Andrea Blau, segretario della Fisaskat Cisle, buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a voi. Oltre al Covid ci sono anche gli appalti, quello che sarà il titolo fra poco che metteremo a noi in sovraimpressione, perché ci sono anche gli appalti, perché se ne parla, ne parlano anche alcuni candidati sindaco, quelli che si sono palesati come tale e che hanno voluto affrontare l'argomento, solo che bisogna anche dare i contorni di quello che vuol dire un appalto e la gestione soprattutto poi dei lavoratori delle cooperative e non soltanto. Qual è la molla che l'ha fatta scattare? A me principalmente è venuto in mente che il problema, anzi è ritornato in mente, perché ormai questo discorso lo sto seguendo, lo sto facendo da molto tempo, che con l'avvento del Covid ci si è un po' dimenticati quello che era un tema molto, che è un tema molto delicato, che è quello dei lavoratori che sono occupati negli appalti, appalti di servizi principalmente, che sono stati servizi che erano prima interni alle strutture pubbliche e poi sono stati appaltati all'esterno e quindi hanno fatto dei loro percorsi, percorsi che hanno messo in grande difficoltà i lavoratori che sono occupati, per cui il fatto che se ne sia parlato sul quotidiano locale, che sia stata data la notizia, bene, mi dispiace che questa notizia sia uscita con degli errori anche tecnici e io ci tengo a riprendere il fatto e dare la giusta proporzione a un problema che è veramente importante, che è aggravato dall'avvento del Covid, perché queste sono posizioni di persone, prima di lavoratori, che stanno subendo un danno economico e un danno psicologico, perché l'attacco non è soltanto al loro portafoglio, ma anche alla loro dignità, adesso questa parola viene usata, abusata, però è così, credetemi, io in questi mesi di Covid ho avuto a che fare con persone dove prima il dialogo, persone che conosco anche da anni, dove prima il dialogo aveva un certo tipo di tranquillità, mentre adesso è veramente esasperato, allora io voglio fare una sorta di appello agli amministratori che siano pubblici o privati, la responsabilità del sociale che ha un amministratore in un'impresa privata e quello che è dato per scontato, ma vedo non riesce a essere efficace dalla parte dell'amministrazione pubblica, appunto l'amministratore pubblico che oggi non sta per niente intervenendo a tutela di queste figure, non che lo debba fare per ruolo, perché là ci sono i sindacati, ci siamo noi, però purtroppo quando alla base di un contratto di servizio che viene esternalizzato c'è un difetto, voglio chiamarlo difetto, le conseguenze noi le rattoppiamo, non riusciamo ad essere efficaci per quel che vorremmo e purtroppo questo crea anche degli imbarazzi in alcuni tecnici che sono dipendenti della pubblica amministrazione, quindi è molto ma molto importante che intervenga chi di dovere, per carità una riforma di legge o comunque un intervento legislativo sarebbe auspicabile, ma andrebbe credo ad appesantire, anzi ne sono sicuro le casse pubbliche, però sarebbe un intervento migliore da fare. Qualche esempio? L'esempio, quello che poi a me ha veramente fatto passare un momento come dire di malessere personale, nel senso che mi sono molto infastidito, molto arrabbiato, è l'appalto del portierato delle università, questo è un appalto a cui per carità io sono arrivato, sono stato informato dai lavoratori, mi hanno delegato un po' tardi, quando la partita era già avviata, però sono intervenuti immediatamente facendo delle considerazioni, purtroppo al succo con domani questi lavoratori passeranno e alcuni lavoratori passeranno con una riduzione della retribuzione anche di 300 Euro al mese. Sì, è una riduzione imbarazzante ed è a mio avviso imbarazzante l'intervento risolutivo che è stato deciso e che io non condivido, che porta il riconoscimento di un'indenità che non è un valore di armonizzazione contrattuale, per chi non sa cosa vuol dire, io faccio un lavoro da anni, c'è un cambio d'appalto, prendo 1000 Euro al mese, l'azienda che subentra applica un contratto diverso, invece di 1000 me ne darà 700, siccome io ho una retribuzione che va tutelata per legge, adesso non mi dilungo su questi aspetti tecnici, quella retribuzione deve essere armonizzata, quindi io quei 1000 Euro li prenderò comunque, il contratto collettivo l'azienda lo può applicare a seconda di quello che rispondo sia a me in termini del servizio, sia per quello che riguarda una scelta di contratto che deve essere comunque riferita a quel tipo di servizio, anche se il contratto paga di meno, prevede di meno per quell'inquadramento, comunque quel lavoratore che era pagato il più ha diritto a mantenere quella retribuzione, come? Con un superminimo che viene riportato nella busta paga, quel superminimo di solito è assorbibile, quindi viene eroso da quelli che sono gli aumenti contrattuali successivi, però dà possibilità al lavoratore di continuare a fare quello che ha sempre fatto allo stesso prezzo, che già era a mio avviso non corretto. Non corretto, quindi diciamo che lo stipendio resta uguale, però la compensazione subisce una modifica? No, è diverso, allora lo stipendio, gli elementi della retribuzione di fatto i minimi tabellari sono inferiori, quindi il contratto che avevo adesso prevedeva 1000, il contratto che mi applicheranno 700, però io ho diritto a 1000, quindi ho quei 300 in più, il contesto che mi vengono tolti, mi devono essere riconosciuti per un'armonizzazione contrattuale e quindi devono essere inseriti nella mia busta paga. Ma da chi? Dal dattore di lavoro. Quindi dalla nuova ditta che entra? La nuova ditta deve continuare ad applicare l'attribuzione precedente. In questo caso questa retribuzione contrattuale più alta non deriva da una contrattazione collettiva diversa, cioè non è un contratto diverso, il contratto di chi esce e chi subentra è lo stesso, ma alcuni lavoratori avevano contestato quel tipo di retribuzione perché avevano contestato il contratto applicato e con un accordo sindacale che non è stato fatto con la CIS, però con un'altra organizzazione sindacale, quindi fatto legittimamente, gli era stata riconosciuta questo superminimo di 300 Euro al mese che è il legittimo riconoscimento del valore della loro prestazione. Quindi in teoria in questa situazione l'allarme è rientrato poi? No, perché questi lavoratori, questi soldi li prenderanno, se li prenderanno, con una voce che è un'indennità, non il sume per minimo. L'indennità è una voce di retribuzione che non è fissa, che cambia secondo la prestazione, se c'è la prestazione e se non fai quello per cui ti è stata riconosciuta l'indennità, tu non hai diritto a percepirla. Ok, quindi può essere che alcuni non lo prenderanno. Può essere che qualcuno non lo prenderanno, sicuramente qualcuno… Quindi è variabile, diciamo. È una variante che… Io perdo comunque retribuzione e il non lavorare non è che sia un caso eccezionale, straordinario, nel senso imprevedibile, ma con una malattia. Se è previsto che quell'indennità non venga riconosciuta all'interno di un periodo di malattia, io in quel periodo di malattia prendo di meno. Chiaro. E questo è un grossissimo errore. A prescindere da questo, io ritengo che il lavoratore che è negli appalti in generale, stia perdendo quella dignità della retribuzione che è prevista a Costituzione, rifaccio un passignetto per non essere tecnico e dico che se una volta questi servizi erano fatti da dipendenti pubblici, e parliamo di decenni fa, e avevano un certo tipo di retribuzione e di garanzie dal punto di vista normativo e di tranquillità nel lavorare, di qualità del lavoro, oggi siamo arrivati a una degenerazione totale di quel tipo di riconoscimento, cioè la qualità del lavoro e la retribuzione, per non parlare della tranquillità del posto di lavoro, perché gli appalti la mettono… È praticamente un continuo precariato, perché purtroppo la legge, e questo va sottolineato, tutela il posto di lavoro e non la retribuzione. Quindi il mio è veramente un appello, io sono veramente stanco, l'ho detto qua più volte, bisogna guardare in direzione di questi lavoratori, con attenzione parliamo di milioni di lavoratori, parliamo di lavoratori, di addetti che fanno un servizio anche alle persone, direttamente o indirettamente, e quel servizio sta perdendo qualità per queste vicissitudini, per questa degenerazione del settore degli appalti, quindi bisogna intervenire alla fonde, l'amministrazione, l'amministratore deve prendersi delle responsabilità, che è un valore… la parola responsabilità non è una cosa di poco conto, è una cosa molto, ma molto complessa. Mi viene da dire che per esempio la responsabilità, se fai un appalto in maniera sbagliata, è anche di tipo penale. Ma in questo caso il messaggio che lei intende mandare è a più livelli, cioè comunale, regionale, ovviamente nazionale, anche per la potestà di poter cambiare la legge, giusto? Sì, è assolutamente a più livelli, per esempio visto questo appello che è stato fatto sul giornale da parte di questo candidato sindaco, pur gli errori che erano anche macroscopici, che c'erano all'interno di questo articolo, io dico come mai nessuno degli altri candidati è mai intervenuto rispetto a questo problema, o meglio, io un motivo ce l'ho, quello che ho detto prima è un problema di economie, però le economie da una parte le risparmio e dall'altra le spendi, probabilmente le amplifichi, perché risparmio su un costo ma ne creo altri, ne creo un altro sì. Allora, è questo per questo che parlo di degenerazione e di deriva, va recuperato, bisogna essere coscienti e conoscere bene la materia, va aperto un tavolo tecnico, io dico a livello regionale perché è un problema di Trieste, è un problema nazionale, bello sarebbe che se ne occupassero a livello nazionale, però ecco, io ho avuto un periodo di silenzio rispetto a questo problema, proprio perché il Covid ci ha portato su altri maledetti problemi, però l'aggiudicazione di questo appalto a me veramente ha fatto arrabbiare. Lei parla di quello dell'ospedale? Quello dell'appalto, del portierato, sì. Ah no, del portierato, ok, ok. Portierato, Ardis, Università. Dice che dopo quell'articolo si riferiva anche all'altro. Sì, in questo momento andare da quella giudicazione a queste condizioni, in questo contesto, è incredibile, non ci si può legare o meglio nascondere dietro alla burocrazia, quindi devo per forza andare ad aggiudicare, devo far partire il servizio, dimenticandosi delle conseguenze dal punto di vista dei lavoratori. Quindi io non ho parlato mai di aziende perché in questo momento, a prescindere da quello che possono fare e che alcune fanno approfittando della situazione, non le voglio vedere, non che non lo siano, ma non le voglio vedere come l'avversario. L'avversario è il sistema che va corretto e quello che oggi è in campo non è sufficiente, lo dico guardando nella telecamera, guardando anche i miei colleghi sindacalisti, non è sufficiente per tutelare i posti di lavoro e da decenni, negli ultimi dieci anni stiamo perdendo potere d'acquisto di quei lavoratori, oltre alla tranquillità personale di cui parlavo prima, perde il potere d'acquisto e in questo momento è un danno enorme, l'anno prossimo 2021, dove ci vedremo piombare le conseguenze di un problema economico, dovremmo non tanto valutare nelle eventuali riprese, queste non sono parole mie, sono un dirigente e non posso nominare perché un amico veramente per me è un mito, non gli ho chiesto se potevo fare il nome, però lui ha detto l'anno prossimo con l'aumento eventualmente della ripresa delle aziende e quindi dei fatturati, non dovremmo pensare di ottenere maggior posto di lavoro, ma di consolidare i posti di lavoro, consolidare il reddito e io sono assolutamente d'accordo perché quello che ci aspetta l'anno prossimo non è un disegno di positività. E c'è anche lo sblocco della questione dei licenziamenti. E c'è lo sblocco dei licenziamenti con tutto quello che sarà problematica. Finemarlo soprattutto. Sì, a meno che non intervengano con altri decreti, però non può andare avanti all'infinito. In due aspetti volevo inoltrarmi in questo argomento. Il primo, a questo punto il nemico, se vogliamo farlo un po' terra terra, è il sistema. Il sistema va cambiato però con la legge, nel senso che sia pubblico o privato si utilizzano dei sistemi che sono stati introdotti, quindi si risponde alla legalità nel momento in cui si riesce a fare un contratto di quel tipo, come l'esempio che citava prima. Quindi l'appello principale è cambiare la legge, giusto? Sì, cambiare la legge ascoltando le necessità dell'altra parte. Oggi la legge risponde alle necessità di bilancio, che sia di un ente comunale, che sia di un ente regionale, che sia di un ente nazionale. Non può più essere quello il disegno. Cioè bisogna mantenere chiaramente il principio di economicità. Su questo non ci piove, attenzione. Però deve esserci una valutazione di quelle che sono le conseguenze di quella spesa. Cioè, in detto in maniera molto povera, per farlo capire a tutti, per quello che è la gravità del problema. Si spende e si cerca di spendere di meno, portando altri problemi invece di risolverli. Cioè la riduzione della spesa deve risolvere un problema, che è quello dell'uscita delle casse dello Stato. Mentre, invece, crea ulteriori uscite. Se non dal punto di vista della gestione di quel contratto, o meglio, se non dal punto di vista della spesa diretta, di quelle che sono spese dirette, come per esempio i contenziosi legali. Ma anche poi un abbassamento della qualità del servizio. Quello è ormai una costante. E anzi, altra cosa che voglio dire, con molto impegno, se oggi alcuni servizi, come quelli della ristorazione all'interno delle scuole comuni di Trieste, se come quello all'interno dell'ospedale di Catinaro o di altri ospedali, quelli che sono gli servizi alla persona, non si percepisce la perdita di qualità, è grazie a quegli addetti. Certo. Perché ci mettono comunque la passione di chi ha lavorato magari per anni e pur infastidito, amareggiato del cambio di appalto in condizioni peggiorative, mantiene la passione del proprio lavoro e quindi riesce a mantenere la qualità comunque in linea con gli anni passati. Assolutamente. E nello stesso momento in cui fa questo riceve pressioni per non farlo. Perché ha un costo. Perché ha un costo. Altra domanda che volevo farle è la questione dei vaccini, licenziare chi non fa i vaccini. È un tema anche piuttosto complesso e poi sfoce anche nell'etica tutto questo. Ed è molto attuale. Sì, sì, sì. Allora, sono usciti degli articoli di giornali dove il magistrato Guariniello e il professor Eichino, che chiaramente sono stimati per carità e sono di valore sicuramente più di me, hanno dato un'enfasi, un segnale che secondo me è sbagliato e che è quello del l'automatismo fra, che potrebbe essere interpretato da chi legge attrazione, l'automatismo fra non mi vaccino, mi licenziano. Ci sono delle condizionali, bisogna entrare nel merito, bisogna andare a fare delle analisi. Sì. Io ho fatto l'esempio su un articolo che ha pubblicato sul sito del citatore Avarino, ho fatto l'esempio dell'addetto nel settore della ristorazione, che possa essere il bar piuttosto che la mensa di una grande struttura, che deve maneggiare gli alimenti ma per farlo deve avere il possesso dell'attestato HCCP, che è un patentino per la gestione della catena degli alimenti, quindi il caldo freddo, le scadenze, compilazione checklist, gestione anche degli ambienti, praticamente è un diploma per lavorare a contatto con gli alimenti. Ha fatto una formazione e sa come trattarli. Sì, e la deve rinnovare ogni due anni, se non ricordo male, e ha un costo. Quel lavoratore che si rifiuta di fare quella certificazione, che non è un'iniezione, quindi è un corso, voglio fare il parallelo, quindi è indolore, il lavoratore non può andare a lavorare e fare quello per cui è stato assunto. Questo vuol dire automatico licenziamento? No. Lo spostano in un'altra mansione. Esatto, il rischio è che l'azienda dica, sai cosa, prima facevi il cuoco, facevi da mangiare, avevi una retribuzione di un livello, siccome tu ti rifiuti di fare questo, io non ti posso obbligare, perché se non c'è una legge non ti posso obbligare, la soluzione che io posso adottare è quella di dirti, guarda ho un posto come servizio di pulizie, con una riduzione della retribuzione, con un demansionamento che è legittimo perché tu non hai requisiti per fare quello per cui sei stato assunto. L'alternativa è quella che è sempre l'estrema razza che è il licenziamento. Quindi è un percorso, io l'ho semplificato veramente molto, pensare questa situazione qua trasferita nel pubblico impiego, dove il licenziamento non è così semplice come invece succede nel settore privato. Provate a pensare un infermiere che rifiuta di fare il vaccino. oggi non è possibile obbligarlo. E quello infermiere fa parte magari di una categoria ordinistica. C'è di mezzo anche un principio ontologico, quindi è un rifiuto diverso, però le conseguenze sono diverse in meglio, nel senso che il pianeta difficilmente potrebbe essere licenziato. Quindi dire non ti vaccini, ti licenzio non è un automatismo corretto, non è un principio dal quale partire corretto. In quel caso un infermiere dove lo sposti se non si vuole vaccinare? C'è modo di farlo comunque? Sì, l'ambito della pubblica amministrazione è un po' diverso, poi all'interno della sanità è ancora più complicato e complesso, però l'alternativa principe non deve essere il licenziamento e ribadisco nel settore pubblico è molto difficile licenziare. Non ci sono obblighi al momento riguardo al vaccino? O meglio, è sbagliato dire di no, ci sono degli obblighi non diretti sul vaccino. E quali sono? L'articolo 2087 del codice civile e il decreto aggettivo 81, che sono il testo unico sulla sicurezza, il secondo, quindi il decreto 81. 2087 del codice civile è un articolo che norma la salute nei luoghi di lavoro. Quindi sono due condizioni generiche che però riconducono a quello che è il fatto di non vaccinarsi, cioè io non mi vaccino, rispondo alle richieste o a quello che prevede queste due previsioni normative, queste due leggi, o meglio una legge, il codice civile è una norma. Quindi è corretto dire che a secondo di quello che prevedono queste due previsioni, si può licenziare automaticamente? No, per quello che ho detto prima, però il datore di lavoro deve intervenire. Per cui a quel punto il datore di lavoro arriverà a quella scelta. Cosa faccio? Io gli ho detto di vaccinarsi, non si vaccina, devo rispettare degli obblighi di legge, devo rispettare dei termini che sono quelli di salvaguardare il luogo di lavoro e la salute di chi ci lavora dentro, se questo mancato a vaccinarsi lo mette in discussione, una forma di tutela per il resto dei dipendenti, ma anche per vedere la votazione, lo devo prendere, mi devo attivare per questo. Quindi è una questione complessa che non prevede un automatismo, ma che comunque rientra in delle previsioni che ci sono già. Si parla adesso poi di chi è contrario al vaccino, che non esistono forme di tutela per chi è costretto a vaccinarsi o costretto o indotto a proprio per non perdere la mansione che aveva acquisito nel corso del tempo. Però lei mi dice che non essendoci un obbligo tutto ciò decade fondamentalmente. Gli obblighi sono previsti dalle leggi, la legge sul ti devi vaccinare, proprio espressa così, non esiste. Bisogna riportare all'interno dell'ambiente lavorativo questo, quindi il fatto che tu devi comunque rispondere a delle regole. Quindi se queste regole sono rispettate, rispettate. Se hai i requisiti puoi continuare, altrimenti fai altro. Puoi vederti condizionare la tua prestazione o altrimenti rischiare di perderla, per essere sintetico. Sì, sì, c'è proprio per arrivare. Abbiamo ancora 5 minuti circa. Che messaggio vuole lanciare lei, ritornando al discorso più generale degli appalti, anche a chi come in questo periodo si sta spingendo per le elezioni del prossimo anno? Finalmente sarebbe ora che, dopo le parole che si sono sentite da quando sono esplosi i problemi degli appalti, quella più eclatante è stata quella delle mense del comune di Trieste, si intervenga con qualcosa di concreto. Il concreto è iniziare a ragionare per come bloccare questa emorragia di reddito, quindi salvaguardare l'occupazione, salvaguardare il reddito, costruire appalti che rispondano al requisito non soltanto dell'economicità, ma di andare in direzione di quello che è il mantenimento della qualità del servizio e ribadisco la tutela dell'apparato società. Quindi se tu togli reddito e dignità ai lavoratori hai un problema sociale, se perdono anche potere d'acquisto hai un divario, una distinzione nella società. Quindi dico agli amministratori pubblici di ragionare in maniera seria in proposte che vadano a soddisfare, a risolvere questo problema, che non può essere chiuso sparando in faccia anche al sottoscritto, ma ci sono delle leggi che prevedono l'economicità. Allora a questo punto ditelo che le persone che pagano le tasse e che fanno questi lavori servizi devono arrendersi nel vedersi quando succede ridurre la loro attribuzione, dare un servizio peggiore e farsene una ragione, quindi limitarsi a fare le loro ore di lavoro, farla senza stressarsi e quindi lasciare al caso tutto quanto. Questo è inaccettabile. Quindi mi sembra che la maggior responsabilità ce l'abbia chi dà quel servizio, il lavoratore, piuttosto a chi lo chiede, che lo ha esternalizzato e che sta legittimando una differenza tra quando il servizio era interno e quando il servizio è stato esternalizzato. Disinteressarsene così non può essere previsto dalla legge, perché veramente è un senso civico questo e devono intervenire per responsabilità del ruolo che ricoprono queste persone. Se poi si sforzano a ragionarci con le organizzazioni sindacali... E' mancato il dialogo, lei dice. Oddio, il dialogo sembra quasi che sia stimolato dagli eventi elettorali, no? Quando siamo sotto elezioni parliamo, quando non ci sono elezioni non ho bisogno di parlare. Non ho bisogno di parlare. Il problema è grave, continua e io chiedo che ci sia un intervento serio e immediato. Chiedo inoltre a chi parla di questi problemi di finirla, di parlare con superficialità, informatevi, parlatene tutti, anzi più ne parlano meglio è, ma non usate termini imprecisi. Il massimo ribasso non è applicabile a questo tipo di servizi. L'articolo 95 del codice degli appalti, le offerte economicamente vantaggiose sono quelle che vanno all'aggiudicazione, ad aggiudicare gli appalti. Quindi usiamo i termini, informiamoci e difendiamo queste persone che hanno bisogno, mai come adesso, di tutelare il loro presente, ma soprattutto sono spaventate da quello che è il futuro. Sono in scadenza delle gare, mi scuso adesso cercare di concludere perché so che i tempi sono quelli. Sì, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Ecco, questa scadenza di questa gara è all'interno del problema covid, forse nell'apice del problema covid, si vedono dover affrontare questo problema del loro rapporto di lavoro. E' allucinato. Io non riesco a concepire come possa essere un'amministrazione pubblica, qualsiasi livello sia, indifferente rispetto a questo. E dire, ma è legittimo, ma è iniziato tempo fa, ma c'erano tutti i requisiti per dire, fermiamo questa giudicazione, facciamo più male che bene. No, non è stato fatto. La questione che ci aspetta nel 2021 è il rischio di riorganizzazioni aziendali, rischio di quelle che saranno le conseguenze di rinnovi su eventuali gare che saranno aperte, e ci rischia di trovare altre persone più povere, perdita di potere d'acquisto, e qua mi allaccio ad un altro problema enorme che è quello degli imprenditori, piccole e micro imprese, il ristoratore, il commerciante, che venderà di meno non per colpa dei decreti, ma per colpa della gente che non avrà i soldi per andare a fare la spesa. Vogliamo danneggiarli ancora di più? O gli daremo dei ristori perché la gente che lavora negli appalti non ha i soldi per fare la spesa? Grazie ad Andrea Blau, siamo arrivati al termine, non mi resta anche a lei che augurare buon anno, sperando che poi 2021 sia più clemente di questo, non è che cambierà da oggi a domani, lo sappiamo, però si fa un po' simbolicamente anche questo auspicio proprio per l'anno intero che si andrà ad affrontare. Grazie ancora ad Andrea Blau della Fisaskat Cisler, buona giornata, arrivederci, ci fermiamo adesso per la nostra programmazione e riprendiamo più tardi nel pomeriggio.